Ciao ragazzi, che meraviglia stamattina, Napoli è calda, c'è il sole, sembra una giornata di primavera, io mi sto avviando in rari e volevo ringraziarvi, insomma ho letto i vostri commenti, sento che vi piace molto questo nuovo percorso di marina e insomma, ne vedrete le sere belle ragazzi, un po' se il sole si tinge di rosso adesso, rosso fuoco, mi raccomando non mancare l'appuntamento di questa sera, io adesso la dirai, devo vedere Ferdi e sarò tutto il giorno con lui, baci, ciao ciao